Lui è mio marito, Ben. Patrick Field, lei è mia moglie, chi era? Lei è Agnes. Ant ha difficoltà a comunicare, da volte è un po' insicuro. Bella Vespa. Sì, vero, dovreste provarla. Possiamo? Non chiamerò io gli sbirrianti divertimento. Ok. Ho preferito mollare lo studio. Sei un avvocato? Medico, dovete venirci a trovare. Sì, sarebbe fantastico. Sì, sì. Andata. È così tranquillo qui. Ma ce li hanno i vicini? Ciao, ce l'avete fatta. Benvenuti, benvenuti. Ta-da! Voi siete ospiti VIP. Giusto per ricordarvelo, sono vegetariana. Il nostro dono per te. È così. Louise, ordine del medico. Buonissima. Ambientiamoci, ve lo prometto, sarà un fine settimana fantastico. Medico. Quanto tempo è passato? 17 anni. 17 anni. Wow. Si prende di meno per omicidio. Sì. Sì. Ha qualche cosa che non va. Ha una patologia. Ha difficoltà a comunicare. A volte va bene pensare delle cose, ma non puoi dirle. Oh no. Grazie a Dio c'è un medico in casa. Io non sono un medico. Cosa? Ma non avevi detto di essere un medico? Davvero? Tu. Guarda che facce. Certo che sono un medico, cavolo. Agnes, ci fate vedere il balletto che tu e Ant state provando? Ant, che problema hai? Devi solo sentire il ritmo nei piedi. Uno, due, tre e quattro. Così si fa. No! Ehi! Che problemi hai? Voglio caricare la macchina e voglio andarmene subito. Siamo tristi di vedervi andare via. Andremo lì e ci comporteremo in modo del tutto normale. Siamo che tutto è normale da quando siamo qui. Papà. Ricordate quando siete venuti a trovarci? Avete dato di matto e avete provato a partire senza salutare. Ciao! Ciao! Buongiorno... Grazie a tutti.